Niccolò Ambrosi con un po' di qualifica uno delle pietra santa principale down C'è un po' di pesi? Non c'è Eh, lo sirene di qua, aspetta Questo è 20 Atrex nero Uomo, mi ha detto qua c'è? Eh, non c'è caso Beh, però si vede che da uomo Atrex nero 20 kg di barbara Eh, non so Ok, quando sei pronta schiacciamo 3, 2, 1 10 3, 2, 1 2, 1, vai Tocca bene, eh Eh, cazzo, mi facciamo? Finito, non è finito Senti bene, Nico Tieni la schiena dietro Dai, non mollare, eh Dai, dai Dai Buono, Nico, eh Eh, non ne sto contando, Nico Dai, piano piano li fai tutti Dai Fane tre, Nico, fane tre, dai Dai Dai, dai, subito, subito Cazzo dai dai Nico dai che è finito dai 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 scendi bene dai Nico dai 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 Grazie a tutti. Dai, Nico, dai. Due minuti, eh. Dai, dai. 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 Dai, Nico, dai. Dai che hai finito, dai. Un minuto, Nico, dai. Dai tutto adesso, dai. Dai, dai. Dai, tutti, dai. 30 secondi, 30 secondi, eh. Dai. 15 secondi, 15, 30, 12, 10 secondi, 10. Dai, finisci lì. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Sì, è arrivato. 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 Grazie a tutti.